o mai il peso peso no è sempre in mezzo in mezzo cioè quando arrivi qua magari un po di qua e poi quando fai dire un po di là magari vai fuori meglio fausto 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 seguilo seguilo e fai no di qua lui no a tu piede di là bene se vedi che è secondo me la fatica è arrivare qua non è questa non so se arrivi qua prova se no c'è questa se no c'è questa qua qua sono a rischio di vita perché se si incastra mi incastra fa nella pianta come no come no mi sono accorto che ho perso lì ascolta oh eri fuori figaro non gli hai dato perché mi sono accorto che ho perso lì dai ho perso lì ha rallentato dai gira di lì e scendi vai gira di lì che scendi che è più facile di là di là girala così e scendi che fai prima se no fai una fatica della madonna quello ci riprova ancora e non c'è verso non c'è verso non c'è verso non c'è verso no lui la trascina no è che per andare su di qua di andare su forte lì cioè qua è meglio che mi tiro indietro va forte 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 poi va fuori lo stesso porto diavolo credibile guarda lui e 5 perché l'ha tagliata e 5 perché l'hai tagliata qua c'era qua c'era la bandierina il peso il peso di là guarda 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 eccoli noi siamo nella nostra riserva ma loro a quanto pare non gli fa niente nessuno guarda 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 guard